All'inizio non è stato facile perché comunque passare da un settore giovanile alla prima squadra ho notato che non è affatto semplice per i ritmi, per tutti i compagni e quindi all'inizio magari ho trovato un po' di difficoltà però ora mi sto ambientando benissimo. Mi ha colpito che comunque sono tutte partite che si decidono, nessuna partita si decide il primo tempo anche se una squadra ha un vantaggio di due o tre gol può essere ribaltato il risultato in qualsiasi momento. Una volta che riusciamo ad andare in vantaggio e a mettere al sicuro la partita dobbiamo continuare sul pezzo per tutti i 90 minuti rimanendo sempre concentrati e non mollare mai. Il mio ruolo principale è davanti alla difesa però posso giocare anche a mezz'ala. Un allenatore molto bravo che riesce a lavorare molto bene con i giovani soprattutto da molti consigli quindi penso sia una buona cosa soprattutto per me. Lui vuole che i centrocampisti costruiscano molto il gioco quindi tutte le palle devono passare dal centrocampo e ci chiede di impostare l'azione dal basso. Siamo una squadra molto competitiva che punta a tornare in A quindi è normale che ci sia molta concorrenza in ogni ruolo, non solo nel mio. Però sto lavorando bene, mi sto allenando. E questo non mi spaventa? No, 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 non mi spaventa perché l'importante è lavorare bene per migliorarsi e prima o dopo la possibilità ti arriva. No, diciamo che per ora sto un po' più con i giovani che sono più miei coetanei diciamo quindi bene comunque con tutti, non ho nessun problema. Sì, sono stato all'Inter e è stata un'esperienza molto importante per me perché ho sempre imparato molto ogni anno dagli allenatori, dallo staff e da tutti quindi sono molto contento di essere passato da lì. Nell'ultimo anno guardavo spesso Gagliardini, quando mi allenavo in prima squadra spesso guardavo lui, i suoi movimenti, come giocava lui. Vuole che attacchiamo in undici e difendiamo in undici quindi per tutti possono esserci occasioni di segnare.